Sono Pietro Gimelli, sono il direttore generale di Unicni, che è l'associazione che rappresenta tutti i produttori italiani di serramenti, metrazioni, facette continue e in questa sede però rappresento tutto il sistema delle associazioni nazionali di produttori di serramenti perché sono venuto molto felicemente a presentare un marchio posa qualità serramenti alle associazioni consumatorie coinvolte. Il marchio posa qualità serramenti è la scelta del sistema industriale di dare all'utente finale una reale garanzia che quello che sta comprando corrisponde a quello che poi utilizzerà perché risolve il nodo vero che è il nodo fra l'acquisto di un oggetto e la sua messa in opera attraverso un protocollo che garantirà a chi acquista serramenti corredati del marchio posa qualità di non solo avere il massimo del prodotto e il massimo dell'assistenza durante la messa in opera ma anche un'assicurazione postumadecennale che gli consentirà di verificare che il proprio serramento continui a funzionare e altrimenti averlo cambiato. È l'idea di una liaison diversa fra chi produce componenti industriali e chi li acquista e chi li utilizza perché è possibile trovare un punto in cui il bene è comune, il bene del prezzo, il bene del prodotto e il bene del consumatore. Grazie.